Vi ricordate quando Melone e Giorgetti parlavano di un buco di bilancio per quanto riguarda il Superbonus? Ascoltate! Abbiamo deciso di modificare la disciplina del Superbonus, pesa sulle casse dello Stato per circa 60 miliardi di euro, con un buco rispetto alla previsione che era stata fatta di circa 38 miliardi di euro. Sapete quanto è costata per ogni singolo italiano? Circa 2.000 euro. 2.000 euro a persona, un dato assolutamente falso. Ma non lo diciamo solo noi del Movimento 5 Stelle, lo dice anche Zanetti, il consigliere economico del ministro Giorgetti. Certifica che l'impatto del Superbonus è stato estremamente positivo per l'economia italiana. Sono otto mesi che il governo non fa nulla per risolvere i problemi degli esodati del Superbonus. Noi le soluzioni gliel'abbiamo già proposte e siamo certi che a breve le copieranno, ma con un colpevole ritardo. Noi continueremo a portare avanti questa battaglia e vi aspettiamo tutti il 17 giugno in piazza per dire basta alle vite precarie.